E' stato presentato oggi nelle comune di Pesero il progetto Servizi Welfare Smart City. Si tratta di un'iniziativa finanziata dal comune grazie al PINQA Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare. Il progetto, ideato da Labyrintho Cooperativa Sociale in collaborazione con Cosmark e CSV e Marche Servizi, si propone di innovare il sistema di welfare locale migliorando nella qualità e l'organizzazione dei servizi sociali, culturali e comunitari attraverso piattaforme e tecnologie digitali. Il tutto col sostegno di un finanziamento PNRR da 800 mila euro. Questo è un progetto di coprogettazione proprio fra pubblico e privato che è già la prima innovazione grossa per questo momento storico, la voglia di stare al fianco per costruire dei percorsi di senso e di sicurezza per i cittadini e le cittadine. Perciò questo è un progetto che proprio si ripropone di ricreare delle relazioni a livello cittadino attraverso l'offerta di luoghi ma anche di piattaforme digitali. Tutte nate dal basso, tutte nate insieme ai cittadini e cittadine, cioè nel senso che niente sarà subito dai cittadini ma sarà deciso, così come alcune app che saranno dedicate alla partecipazione dei cittadini alla costruzione delle politiche della città. Verrà dunque realizzata la piattaforma Pesaro Hub che promuove in forma innovativa i servizi di welfare, l'app Pesaro Housing per la gestione del patrimonio abitativo e l'app People per sollecitare la partecipazione. Il tutto inserito anche in un ambizioso progetto di rigenerazione urbana di parte del centro storico denominato Decumano Carbon Free che contemplerà la valorizzazione del complesso storico dell'Oratorio della Misericordia altrimenti conosciuto come Chiesa delle Zoccolette. Il progetto prevede una parte di hub quindi legata ai lavori che andranno realizzati in via delle vetrerie e quindi il complesso delle Zoccolette dove ci saranno degli spazi che verranno dedicati a incontri, alla coprogettazione e al confronto con i cittadini. Poi ci saranno delle app invece che vengono realizzate per servizi all'insegna dell'utilità per il cittadino quindi con informazioni culturali, dei progetti che ha l'amministrazione comunale e interventi di welfare innovativo. Il 25 di luglio porteremo per la prima volta i contenuti di questo progetto nel cuore della città con un evento alle ore 18 che si terrà presso la corte bellissima di Palazzo Mazzolari Mosca e che vedrà la partecipazione anche di Paolo Venturi di Icon, nostro partner dell'Università di Bologna e quindi all'altro partner sarà il magazine Vita e il direttore stesso verrà a moderare il panel di esperti attraverso il quale cercheremo di portare questi contenuti alla città. Un'altra cosa, in questa occasione avverrà anche un momento di interazione con il pubblico grazie alla nostra piattaforma Pesaro Hub.